La nostra rete Top Quality Network ci permette di eliminare le distanze e di sentirci molto più vicini. Con Mio Dottore puoi affrontare la stagione estiva senza preoccupazioni. Che tu abbia necessità di una visita specialistica durante le vacanze oppure di un consulto perché è rimasto in città senza il tuo medico di base, con Mio Dottore puoi sempre contare su uno dei 200.000 specialisti presenti già scelti da oltre 2 milioni di pazienti in tutta Italia e prenotare una visita in studio o online in qualunque momento in maniera molto semplice. Innanzitutto devi installare l'app Mio Dottore sul tuo smartphone. Vai su Google Play o se hai iPhone cerca App Store. Scrivi nella barra di ricerca Mio Dottore e una volta trovata l'applicazione premi il tasto Installa o Ottieni. Adesso non ti resta che premere l'icona dell'app ed effettuare la registrazione per iniziare ad usare Mio Dottore. Scrivi il tuo indirizzo email e scegli una password. Oppure registrati con Facebook, Google o Apple. E dopo aver accettato le condizioni di servizio premi su Registrati. Fatto! Benvenuto in Mio Dottore. Ora trovare lo specialista che ti serve è molto semplice. Scrivi la specializzazione nella barra di ricerca. Dopodiché scrivi la città in cui ti trovi e premi sui suggerimenti per avviare la ricerca. Ecco la lista degli specialisti più vicini. Premendo Filtro potrai trovare con maggiore precisione lo specialista che più si adatta alle tue esigenze. Per farlo ti basta scrivere per esempio il nome della tua assicurazione oppure la tipologia di visita, le patologie trattate, il metodo di pagamento. Puoi anche scegliere in base al tipo di profilo. Cerchi uno specialista, un centro medico o entrambi. A questo punto non resta che premere per vedere i risultati. Ora sei pronto a scegliere lo specialista che fa per te. Premi sul suo nome. Apparirà una scheda di approfondimento dove potrai verificare la sua disponibilità, le recensioni, i prezzi. Puoi anche scegliere se prenotare una visita in studio oppure tramite consulenza online, ovunque ti trovi. Adesso scegli giorno e orario della tua visita fra quelli disponibili e seleziona per chi stai prenotando. Una volta fatto, scrivi i dati del paziente. Ricorda di indicare il tuo numero di telefono e la tua e-mail per poter ricevere i messaggi che ti ricordano della visita. Premendo su Visite nella schermata principale potrai sempre controllare tutti i tuoi appuntamenti e vederne i dettagli, compresa la mappa, con la posizione dello studio. Se poi vuoi comunicare con il tuo specialista, ti basta premere invia messaggio per attivare una chat istantanea. Quando lo specialista ti risponderà, riceverai una notifica. Vuoi cancellare una visita? Basta tornare nella schermata di dettagli della visita e premere cancella appuntamento. Non ti resta che trascorrere una serena estate con Mio Dottore e il tuo fiato. Wind 3, molto più vicini.